Allora salve ragazzi, rieccoci Allora, sempre con i miei documenti alla mano Qual è il mio obiettivo in questo momento? Vi avevo detto che avrei cercato in tutti i modi di rifare quello che avevo detto e cioè di ripercorrere, comunque vi dato che domani c'è la Cassazione e che è una cosa veramente importantissima e di ripercorrere con voi tutte le tappe di questo processo Allora, nel 2006 il processo sportivo ha deciso 30 punti di penalizzazione per la Juventus e la Juventus doveva andare in Serie B poi l'arbitrato, la Corte federale e alla fine l'arbitrato hanno ridotto a 9 punti di penalizzazione per la Juventus ed è andata in Serie B Moggi è stato accusato in sede penale se sto intendendo la giustizia sportiva tanto l'aveva condannato, l'aveva radiato Allora, capo di associazione A Moggi Giraudo Mazzini Bergamo Pairetto Lannese De Santis La Fazzi Mazzei Gli Redi Bayoni Fabiani Araccalbuto Cassaradatti Lobertini Di Naprioli Pieri Ambrosino 2 3 4 5 6 7 8 0 9 10 11 11 12 13 15 15 15 16 16 16 16 17 17 19 20 imputati 20 imputati per associazione delinque finalizzata la fronte sportiva che il primo grado che sembrava che Moggi attraverso Trofino e Piroeschi i suoi legali avesse distrutto completamente la tesi accusatoria non fu così, non fu così secondo i giudici perché? allora, andando con i fatti il primo grado, questo vi sto dicendo solo la sentenza del primo grado poi passeremo all'appello primo grado, primo grado primo grado, Moggi condannati in primo grado per il capo B partita Udinese-Brescia 1-2 per il Brescia tesi a munizione dolosa di Penzi Montare di Michele ed espulsione dolosa di Iankulowski che avrebbe danneggiato l'Udinese e favorito la Juventus prossima avversaria il concetto è uno, il concetto è ovvio cioè, l'accusa dice voi avete fatto avete ovviamente indagato tutti perché cioè, avete chiamato tutti i vostri scagnozzi avete indagato per vedere chi erano i diffidati e li avete fatti a munire in modo che però i Juventus non c'erano non è assolutamente vero Moggi e Giraudo sono stati condannati l'arbit è stato dichiarato colpevole in primo grado ma qui non ci vuole un genio cioè, questa è una sentenza per il capo B taroccata non si sa chi è taroccata ma se noi andiamo a vedere basta che vai a vedere su internet Udinese-Brescia-Juventus 2004-2005 io ci sono andato a vedere e ho visto che Pinzi e Montari giocavano hanno giocato regolarmente con la Juventus perché non erano diffidati Di Michele non ha giocato con la Juventus fino al novantesimo poi al novantesimo è entrato e ci ha fatto gol ed è finito infatti 2-1 per la Juve la partita quindi Pinzi e Montari di Michele hanno giocato regolarmente con la Juventus Jan Kulowski è normale che non ha potuto giocare perché ha dato un pugno all'avversario e il dattilo, l'arbitro, l'ha espulso qui non c'è nessuna ammunizione mirata poi allora allora dove sono stati imputati? dove è stato imputato? Siena Juventus 0-3 Fabiani, Moggi e Bertini erano indagati in primo grado questo è tutto il primo grado ragazzi questo è tutto il primo grado allora poi questo era il capo C capo D Juventus Chievo favorire la Juventus Juventus Chievo 3-0 Moggi solo Moggi l'ha indagato in questa partita in primo grado poi capo R partita Siena Messina 2-2 tesi favorita Messina Fabiani Moggi e Bertini tutti e tre queste sono tutte le partite di primo grado capo S partita Sampdoria Regina 3-2 per la Sampdoria tesi favorita Regina Bergamo condannato Foti condannato capo T partita Palermo Lecce 3-2 tesi ammunizione dolosa di Pinar De Rullo prossimi avversari del Messina Moggi ed Esantis condannati in primo grado capo U partita Chievo-Lazio 0-1 tesi alterazione di agri arbitrali per favorire la Lazio Carraro subito prosciolto in udienza preliminare subito prosciolto Bergamo condannato Mazzini condannato Lotito condannato Rocchi condannato in primo grado Paeretto anche lui condannato in primo grado anzi aspettate aspettate anzi no 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 allora forse mi sono sbagliato ragazzi forse mi sono sbagliato perché allora Sina Juventus 0-3 Juventus Chievo 3-0 sono stati assolti tutti subito in primo grado Siena Messina 2-2 Siena Messina 2-2 Fabiani Moji Bertini questi sono stati assolti anche Palermo Lecce 3-2 allora il capo T il capo C e il capo D sono stati assolti subito in primo grado mi ero sbagliato io invece in Chiavo-Lazio 0-1 è stato condannato in primo grado Lottito Bergamo Mazzini e Rocchi è stato subito assolto capo V partita Lazio-Parma 2-0 tesi alterazione delle gherie arbitrali per favorire la Lazio Carraro prosciotto in un'udienza preliminare Bergamo assolto subito Pairetta assolto subito Mazzini condannato Lottito condannato l'arbitro assolto partita Roma-Juventus Mogi condannato Raccalbuto condannato per questa partita Giraudo assolto subito in primo grado quindi Pui ah e Pieri assolto ovviamente da questa partita forse aspettate forse forse c'è qualcosa che non mi ritorna c'è qualcosa che non mi ritorna forse i fogli non li avevo rimasti bene forse sì se vi ho detto un pochino a rovescio va bene comunque non importa non è così fondamentale allora comunque Regina Messina 0-2 favorire Messina fa bene questa subito assolti tutti fa bene assolto Bergamo assolto Inter-Forentina tra due assolti partita Siena-Milan 2-1 Bergamo Paretto Mazzini Giraudo Baglioni tutti assolti Milan Chievo 1-0 Miani condannato Bergamo Pugliesi condannato Chievo Fiorentino 1-2 Dera Valle Diga Dera Valle Andrea condannati Bencucci condannato Bergamo Mazzini condannato Mogi condannato Dondarini assolto Capova partita di Vornosina 3-6 3-6 Allora Declarazione di spina ci sono pubblico la romana De Santis assolto assolto De Santis perfetto Poi Arezzo Arenitana Mazzini assolto condannato il primo grado Tito Maglio Palermo Regino 1-1 Bergamo assolto Foto assolto Pier assolto Lazio Ferentino 1-1 Della Valle ha proposto di accordarsi sul risultato della partita accordo rifiutato dallo Tito Della Valle assolto Lece Parma 3-3 condannati tutti tranne Mogi e Criselli De Santis condannato Mazzini condannato Bergamo Della Valle condannato i due Della Valle condannati poi e allora il capo E il capo E fai vedere un po' allora 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 questo era con questo qui quindi quindi sì Juve Chievo tutti assolti Lecce Juventus Moji assolto Giraudo assolto Bergamo assolto Paretto assolto De Santis assolto Nicola assolto Juventus Lazio Moji condannato prescrizione appello Giraudo assolto Bergamo condannato Paretto condannato Dondalino assolto Baiono assolto Fiorentina Bologna ammunizione dolore di Petruzzi Nastase Ganverini per favorire la Juventus successiva Versa del Bologna Moji condannato De Santis condannato Bergamo condannato Paretto condannato Regina Brescia 1-3 favorire la Regina condannato Bergamo condannato Foti partita Bologna Juve Moji condannato Bergamo assolto Paretto assolto De Santis colpevole perché è stata assorbita da Ferrandina Bologna ok Paretto Paretto assolto la verità partita poi Regina Cagliari favorire la Regina Bergamo condannato De Santis assolto Foti assolto Juventus Milan favorire la Juve Fabiana assolto Moji condannato al primo grado Bertini colpevole secondo la procura Bertini è stata dichiarata colpevole partita Roma Parma 5-1 espulsione dolore di Pisan continui prossimo avversario della Juve Moji assolto Racalbuto assolto Cagliari Juventus favorire la Juventus condannati primo grado a Moji condannati primo grado a Calbuto partita Messina Parma 1-0 Fabiana assolto Moji assolto Bertini assolto partita Juventus Udinese 2-1 Tegli attirazione della Greia tramite pressione di Moji a Bergamo Juventus favorita la terna arbitrale Moji condannato Bergamo condannato facendo tutta questa serie di diciamo riassuntini se li possiamo chiamare riassuntini se li possiamo richiamare riassuntini allora qui allora diciamo in primo grado Moji ha avuto 17 condanne Giraudo 6 condanne in primo grado allora Giraudo Giraudo dato che è stato assolto in Udinese Brescia Juventus Lazio Lecce Juventus Poi altre 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 Siena Milan 2-1 per il Siena Giraudo è stato assolto Roma Juventus Giraudo è stato assolto ancora e basta l'unica condanna che ha Antonio Giraudo non ci chiederete ma è questa e ve l'avevo già detta Juventus perché è stato prescritto Giraudo è stato condannato per una partita dichiarata non alterata eppure qui c'è scritta alterazione del grigli tramite pressione di Mojia Bergamo come è possibile non lo so io sono sincero io per Giraudo penso che la soluzione riesca a prenderla lui perché non può essere prescritto non può e non vorrà penso essere prescritto per una cosa del genere sarebbe scandaloso se nel ridabreviato lo facesse un giudice che ha un minimo di coerenza per una condanna del genere che toglie la condanna senza rinvio perché non ha senso questa condanna di Giraudo non ha senso per quanto riguarda Moj invece che è un discorso un pochino più serio Moj è stato prescritto in appello per Udinese Brescia ha avuto 9 prescrizioni Moj e 6 assoluzioni sarà assolto in Siena Juve assolto in Juve Chievo assolto in Lecce Juve e anche Giraudo ovviamente è stato condannato per Juventus Lazio 2 a 1 condanna prescritta in appello partita Fiorentina Bologna uguale Bologna Juventus la stessa cosa condanna annullata Juventus Milan condanna annullata assolto su Roma Parma prescritta Cagliari Juventus assolto su Messina Parma condannati in primo grado prescritto in appello in Juventus suddinese assolto in Siena Messina 2 a 2 assolto in Palermo lecce prescritto in appello per Roma Juventus prescritta in appello per Chievo Fiorentina assolto per lecce Parma 3 a 3 e basta allora tutte queste partite i colpevoli sono rimasti erano allora vediamo gli arbitri 1 2 3 4 5 6 7 8 arbitri 8 di 8 arbitri ne sono rimasti esattamente colpevoli 1 2 3 3 colpevoli tutti assolti Gabriele Pieri e Ambrosino che è un guardaline Baglioni che è un guardaline questi sono stati tutti assolti Cassarà tutti questi sono stati assolti Gabriele Pieri Ambrosino Cassarà e Baglioni tutti assolti Dattilo colpevole per Udinese Brescia che deve essere smontata assolutamente domani speriamo De Santis colpevole Ragalbuto prescritto allora Dattilo colpevole per Udinese Brescia De Santis colpevole per Bologna Juventus perché è stato dichiarato colpevole in Fiorentina Bologna poi Bertini colpevole di Juventus Milan finita 0-0 molto bravo Guertini qua al finire la partita 0-0 poi 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 va bene racalbuto dopo il scritto siamo d'accordo poi 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 di Santis dichiarato dichiarato colpevole per Lecce Parma 3-3 io ho riascoltato con la telefonata e sembra che neanche questa sia pilotata sinceramente ragazzi io vi ho detto tutto ci rivediamo domani sera sperando che veramente noi giuventini abbia avessi speriamo che domani sera avremmo che dire ragazzi giustizia io non ne sono molto convinto nei confronti di Moggi un pochino di più nei confronti di Giraudo ma io non credo che vengano assuati tutti e due probabilmente verranno prescritti tutti e due in modo che l'accusa strumentalizzino la prescrizione perché alla fine l'accusa ha raggiunto il suo obiettivo mandare far andare tutti in prescrizione in modo che gli imputati non si potessero difendere perché se le prove ci fossero state le telefonate ci fossero state prima non saremmo mai arrivati fino a qui comunque ragazzi domani si chiuderà speriamo almeno per molti per Giraudo io penso che Calciopoli domani si chiuda anche se c'è la prescrizione per loro si chiude per gli arbitri no e se per gli arbitri non si chiude io vi terrò aggiornato anche perché Datti Robertini e De Santis hanno rinunciato alla prescrizione cosa che non hanno fatto mogi Giraudo anche se Giraudo non è stato prescritto in niente potrebbe essere prescritto in questa condanna che dire ragazzi speriamo bene io rispetterò la magistratura anche se dovesse confermare una condanna anche se mi sembra molto 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 strano si fa a Roma la Cassazione la Cassazione a Roma non è più a Napoli è a Roma quindi che dire ragazzi io in bocca al lupo ai giudici mi raccomando prendete la decisione giusta perché questa è una decisione importante e non si potrà tornare indietro io vorrei che voi non prescriveste questo processo vorrei che confermaste o la condanna o annullaste la condanna senza rinvio o condanna o assoluzione tutto qui io vorrei solo questo ragazzi questo è tutto ci vediamo domani sera con il commento della sentenza di terzo grado di Cassazione di Calciopoli ciao ragazzi speriamo bene e forse aiuto ciao